Francesco, vedi, quando uno fa un lavoro sulla propria persona, e te lo dico io che ci ho lavorato per tantissimi anni, ho iniziato che avevo 20 e qualcosa anni, insomma 22, non è che le cose vanno sempre come ci aspettiamo che vadano, anche perché la nostra aspettativa di come le cose dovrebbero andare, di solito è un'aspettativa mentale, cioè noi diciamo secondo me è giusto che a me accada questo, e quindi uno dice se non succede sto male, la verità non è questa, la verità che io ho imparato anche io di recente insomma, perché ho fatto per tanti anni anche io percorsi dove poi dicevo le stesse cose che dici tu, eh ho fatto un lavoro, poi le cose non vanno, come dico io, no, non vanno come dici tu, perché le cose non andranno mai come dici tu a livello mentale, le cose vanno in due modi, il primo modo è quello che a te serve in quel momento per crescere, e spesso è contrario alla direzione che tu ti aspetti, il secondo modo di come vanno le cose è quello che tu hai dentro di te, tra l'altro sono collegate le due cose, nel senso che se tu dentro di te hai delle paure, delle resistenze che sono molto più forti del tuo desiderio razionale di avere una relazione, o comunque se avere la relazione in questo momento non è la cosa che ti fa bene, perché magari non sei pronto, perché magari hai un sacco di blocchi e di paure su altri piani, quello che tu desideri non ti può capitare, perché sei tu il primo inconsciamente che blocchi la possibilità che questa cosa accada. Quindi il lavoro va fatto sul rendersi conto che a livello profondo inconscio ci sono tantissime cose che noi non vediamo, che stanno lavorando contro a quello che noi diciamo razionalmente di volere. Quindi il lavoro che va fatto è quello di andare a vedere quali sono le paure, i blocchi, il senso di inadeguatezza. Per esempio nel tuo caso c'è un fortissimo senso di inadeguatezza e anche una fortissima paura, per esempio, del giudizio delle altre persone, del fatto che tu possa essere in qualche modo, appunto come mi dici qui nel messaggio, preso in giro da qualcuno, come se questa persona avesse avuto l'intento di prenderti in giro, così. Ma io apprezzo che tu mi dica le cose per come tu le senti dentro, e questo so che lo stai facendo. Però ti invito a fare una riflessione e a vedere quanto tu sia pauroso quando ti succede di avvicinarti a una ragazza. E quindi in tutto ciò, anche se ti stai in qualche modo rinfrancando nell'ultimo periodo, e sei cambiato molto rispetto a quando abbiamo iniziato, il fatto che tu ti stia rinfrancando non toglie che la base ancora sia spesso determinata dalle paure. Tu hai una fortissima resistenza sul lasciare andare tutte le tue convinzioni, paure. Tant'è vero che stai sempre guardingo per capire cosa fa l'altra persona, per agire in base a quello, per vedere se ti fa qualcosa di male, se ti prende in giro, se ti risponde nel momento in cui tu vuoi che ti risponda, come tu vuoi che ti risponda. E di conseguenza faccio questo, quindi perché quella ha fatto quell'altro, allora io devo fare così, perché i confronti, cioè tutto questo è un agglomerato di mille paure, che nei rapporti umani non ti può aiutare a far avvicinare a te le persone. Oltre a questo, ti si avvicinano persone, come avrai notato, che non sono tanto centrate, non sono tanto equilibrate. Cioè siamo a livelli dove ci sono persone che veramente fanno cose abbastanza surreali. Quindi, se tu noti che ti si avvicinano sempre persone di questo tipo, vuol dire che tu in qualche modo hai quel tipo di vibrazione, non la vibrazione della persona squilibrata, ma la vibrazione della persona che può essere accomodante, può adeguarsi alla persona squilibrata. Poi il lavoro che stiamo facendo insieme ti permette di accorgerti di queste cose ed evitare magari di iniziare cose troppo dannose con certe persone. Però questo non toglie che al momento tu abbia quel tipo di modalità, quella un po' accomodante, perché il tuo desiderio di trovare una persona in questo momento viene prima del desiderio di stare bene con te stesso. E in tutto ciò tu stai delegando all'altra persona il tuo star bene. Cioè, quando le cose sentimentalmente vanno come tu speri che possano andare o c'è qualche segnale positivo a livello sentimentale, tu sei più o meno felice. Quando le cose invece a livello sentimentale traballano, tu sei triste, addirittura scendi a dei livelli di disperazione, in certi casi, come era successo con Laura. Quindi, in tutto questo, ti invito a notare che la maggior parte delle tue azioni sono mosse dalla paura. E la paura è una forza, un'energia, che va in senso opposto all'amore. Quindi chi è dominato dalle paure, difficilmente riesce ad avvicinare persone equilibrate per averci una relazione sana e amorevole. Mi dispiace dirti queste cose, però è giusto che tu lo noti questa cosa. Lo noti. Perché è una caratteristica dominante. E il lavoro che va fatto è quello di osservare quando si è guidati dalle paure ed evitare di agire sulla base di quelle. Ne avevamo già parlato anche l'anno scorso, se ti ricordi. Quindi, finché tu sei proiettato all'esterno, cosa che tu continui ad essere proiettato all'esterno, difficilmente ti accadrà quello che tu desideri. E non dipende da me o dal guru migliore del mondo. Dipende da te, sostanzialmente. Perché le persone che ti aiutano possono farti notare delle cose. Poi il cambiamento è un qualcosa che tu devi agire. E proiettarsi fuori nella speranza che l'esterno ti dia delle cose per stare meglio non è la soluzione migliore.